Ma no, guardate quanto è rosso Ah, stai atterrando col gomito Tutto il mio corpo sto mettendo in questa sfida, regà Mi raccomando, iscrivetevi al canale E arriviamo un milione e mezzo di iscritti Guardate che cuore per fare questi video Cioè, centro rovesciato, questo è pazzo Iscrivetevi Iscrivetevi In questi anni su YouTube ho dimostrato che la rovesciata È la mia skill principale Siglando gol pazzeschi e canestri da lontano Al limite della follia Oggi siamo qui con ZW Jackson A riproporre un suo grande format La 100 tiri challenge Ma con la differenza che i 100 tiri dovrò calciarli In rovesciata Da non oltre 11 metri di distanza Quanti gol riuscirò a segnare Su 100 rovesciate a disposizione Ringraziamo ovviamente l'ASV Città di Aciglia per averci ospitato Qui in questo campo per questi Video Ci siamo signori, ci siamo, ci siamo Condoglianza Prima di cominciare, dato che una sfida nuova non l'abbiamo mai fatta Non abbiamo idea di come posso andare Ditemi il vostro pronostico quanti gol farò a rovesciata Di rovesciata è difficile Quindi io dico intorno ai 20 Dice farne almeno 15 Secondo me ne fai 26 Perfetto Ah, attenzione Allora, bocca al lupo Condoglianza Ogni 10 tiri avrò un alzatore diverso Comincia Gnabry ad alzarmi il pallone Allora partiamo col primo Raga, sono teso Sto prendendo la mano, sto prendendo le misure Raga Giù Oh Porca Oh No C'è palo palo No raga Palo palo non è gol gol Palo palo non è gol gol Palo palo non è gol Perché lui fa tanto il fenomeno Basta tirare un po' più forte del solito Pregatto Io spero che un gol ti batti Sei baciato, sei Inizia a pensare al primo importugno Da finire la challenge È bella perché è angolata Dai, palla No, Pier, non puoi mollare il primo giro, eh Ma chi molla? Esatto Non si molla Peccato Il decimo tiro Golla Lagnar Ma se Para Lagnar E' gol, è gol C'è da dire che io sono arrivato a tipo 800 tiri fra due giorni Con le scuse Già con le scuse Figa, c'ho le stampelle e paro ancora Questo è binario Di testa Non raggiungi 15 Andiamo con i prossimi 10 Però devi essere un po' lasticello Nuovo avanzatore J Pata Ex Inter Ex Parma Ex Ponza Ex qualsiasi cosa È la mia ex E' due gol su dieci tiri Let's go Ehi Allora il primo E questi sono dei cross come si deve Non quelli di Gnabry Aspetta che ne hai fatto uno E andiamo Due su due Lo vedo in ansia il portiere Lo vedo in ansia Tutti hanno rotto le palle però Non è possibile Raga Non è possibile Ogni volta che colpisca il palo Pierre Non entra mai Non entra mai Non ho mai fatto un palo goal Traversa goal nella mia vita Il palo è goal Sì Mamma mia I primi 10 erano l'antipasto Adesso è il primo piatto Vinciarli insomma Vai 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 Non ci fermiamo neanche un secondo Non voglio dargli tempo di rifiutare Questa era la punta di rovesciata Sì Mi accento al punta challenge Bello Bello Ho mirato l'incrocio Il ventesimo tiro E' la prima che sbaglia raga La prima che sbaglia Sette gol Allora Cinque gol in questa serie Quindi siamo a sette su venti E allora E tu nuovo alzatore Ci proviamo Ci siamo? Sì È più alta Bello Comunque è agilissimo Presto l'imusiatto Bella Bella E no E no 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 Stai Piero Che poi sembra Che sono gli altri Che può passare No Che succede Piero Che succede Piero Tu devi parare Non parlare Eccolo Eccolo Facci tu Facci tu lì Immobile Facci tu lì Ci sono Ci sono Ogni tanto tipo la prendi di pincia Bello Bello Prima parata Finalmente No No Non è possibile No 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 Non è voltarlo Bole gol Piero Concentriamoci Concentrazione Trentesimo 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 Schiacciato Schiacciato troppo Otto gol su trenta Ovviamente più si va avanti Ecco bene Più la stanchezza si fa sentire Cioè raga La rovesciata è un gesto tecnico Usurante Soprattutto se la fai così tanto Quindi bisogna stare molto molto attenti E allora Torna Gnabri con l'alzatore Sono ritornato io Prima ne ha fatti due Ora tre almeno La sua voce diventerà un meme Sono ritornato io Oh no Le palle Ho mirato proprio lì Un mollà Pieri Un mollà Pieri Ma chi molla Ma chi molla Ma chi molla Mamma mia che gol Per il mio du Brasil Dai per il decimo Troppia cifra Per il decimo Per il decimo Palone perso 10 gol Dai Sto facendo anche la 100 squat challenge Sì Su Bravo Guarda Il passaggio era anche sbagliato Ma lui è riuscito a prenderla comunque Porca ma è spicace 11 gol su 40 tiri Se non erro Non è male Tenendo conto che stiamo facendo le rovesciate Non è male Guarda che è uno sforzo fisico veramente importante Mi stavo avvicinando alle 50 rovesciate Non ero neanche a metà del percorso Già la fatica si faceva sentire E proprio in quel momento Arriva l'ennesima mazzata Non è da te Pier Attenzione Ecco No 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 Non basta con le ragazze Non puoi più Vai silenzio Vai a prenderla Bucalo 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 Oh ti hai ricaricato tipo una molla Si Ho il cinquantesimo Pier In realtà eh Bucalo il suo comando Oh Bucalo Va bene 12 su 50 potenzialmente posso arrivare a 24 26 dai Posso fare anche di più E adesso inizia una nuova partita Altri 50 tiri Posso? Vai 51 come l'aria Bucalo 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 Ci siamo Stiamo andando dall'altra parte Stiamo andando dall'altra parte Stiamo Bucalo Ma che cazzo Ho appena fatto Merda che dura dopo 50 tiri Vai a mollare Vai a mollare Bucalo 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 È inutile infierire Bucalo 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 Traversa sbloccata Bucalo Bucalo Ci siamo A sto giro ci siamo Ci siamo Ci siamo Ragazzi 26 Obiettivo Andiamo a cerchiarlo È la termica il problema Alleviamoci la termica Eccolo Vai Sì Vai Ci sono È caduta Tieni Bella Era la maglia Era la maglia Era la maglietta No non è vero Sono i miei piedi storti Però dai Comunque ragazzi 15 gol 15 gol Ecco qua il 16 E allora 16 su 60 Comincio ad avere mano anche al braccio Regà Perché appoggiarsi per terra Tutto il mio corpo Sto mettendo in questa sfida Regà Inquadramo questa parte Questa parte è qui raga Raga sta sfida è veramente distruttiva Pericolosa Estrema Non fatela a casa Bellissima challenge Anzi fatela per rendervi conto Quanto è difficile Fatela sul letto Sul divano Tocca Vai 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 Stiamo a tre gol di fila raga Quattro gol di fila Pensavo di essere saltato un botto prima Invece sono riuscito a riprendermi Quarto gol di fila E sei a 18 Dov'è? Bella No Quarto ora di raga Andiamo per il 20 E il 20esimo non potevo non farla Il 20esimo così 20 gol ragazzi No Dai dai non perdiamoci Ci sono ci sono Una volta raga mi appoggio male Con l'abbraccio Mi faccio un po' male Il 70esimo Dai dai non mollare Wow inizia veramente a diventare distruttiva per il mio corpo Puoi inizi a parare Puoi Ma non è di quanto sta male Non mollo Non mi interessa Quando tutti mi danno per sconfitto Io risorgo Questo è il tuo massimo Questo non è il mio massimo Raggiungi l'apice qua Il mio prime lo vedi adesso Ma attenzione E allora torna già i pata Bello però Bello quando farla tanto E ammutunirlo per un secondo Ragazzi è abbastanza guturioso Guarda con un style 22 22 No basta Sto palo Basta Ma ho ancora palo Attraversa Palo dammi qua Dai andiamo avanti Che c'è Non mi sento urlare Non mi sento urlare Non mi sento urlare Che c'era quasi arrivato 23 gol Tiro numero 80 E ho tanta voglia di segnare Vai Bravo Ah Braccio in gesto Ma 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 perché tu stai atterrando Ma guarda tanto il rosso Ah Stai atterrando col gomito Sì Io sto C'è terra così Andiamo con l'ottantunesimo Arrivano i cross belli Eccola Mi fu Bravo Oh 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 Ragazzi Smontate i pali di quella porta Wow Vabbè ragazzi Ho frecato un tiro Oh Quintasse con l'unica sgolta Wow 186 E' in un momento che deve concentrarsi Ah Separa questo e clean sheet ragazzi In queste ultime dieci Non sbagliare questo Tiro numero 90 Tocca a te Tocca a noi Tocca a tutti prima o poi Condaglianza e clean sheet Bravo bravo Con la stanchezza ragazzi 90 tir ci sta La stanchezza qui c'erano tutti La stanchezza qui c'erano tutti E io più che mai Ma adesso andiamo con gli ultimi dieci ragazzi Almeno 26 Cerchiamo di raggiungerlo No bro Questa qua è la grande vostra Non mollissimo Ormai è calato il silenzio qui a Roma Sia il fratello che Gerson Hanno scritto le parole Hanno scritto le parole Ecco Suicite Che continuano ad andare avanti Non mollare Non riesce a uscire all'incubo Ora ora con la testa Ora con la testa E siamo a 25 E adesso per il 26esimo Per raggiungere il suo pronostico all'inizio 5 palloni rimanenti Leri Dai non so niente qua Tieni di essere forte solo perchè urli Vai Pee Gli ultimi 5 Se io metto il prime tu sei spacciato Più con te Prima o poi Paola riparti male Paola riparti male Ultimi 3 Dai dai deve essere 3 gol Tiro numero 99 Fallo vedere ZV Questo deve essere il gol 26 26 Dai JPEG E adesso ultimo tiro per superare No devi sbagliare Devo superare il tuo pronostico Per il centesimo 1 2 3 Basta E' finito l'incubo Ti prego inquadrami dappertutto ovunque No ragazzi Abbronzato però ragazzi Complimenti a Jay Pata per averci azzeccato No abbiamo azzeccato 26 ho detto Jay Penguin E complimenti a ZV per aver inventato questa sfida ragazzi E' stato un piacere fare questa variante della rovesciata Andatevi a recuperare mi raccomando la mia 100 tiri challenge E vedremo se ho fatto più gol Io Gnabri Raga Grazie alla visione Grazie di tutto E noi ci vediamo presto Con un prossimo video Ciao ragazzi Ciao Un milione su Youtube Già lo sai Ciao Sai Se con noi metti il pollice su Siamo i PirlaZV Siamo i PirlaZV Un milione su Youtube Siamo i PirlaZV Haha